Investigazione, delitti, indagini sono la tua passione. Presumo ti piacciono i gialli. Ti racconto un pezzo di una storia, il mastino di Baskerville. Una grande villa ai confini della brughiera è abitata dall'anziano signore. Un giorno, al calar del sole, si ritrovò il corpo di Baskerville senza vita. A risolvere il caso arriva Sherlock Holmes. Con la sua intuizione, troverà il vero assassino? Grazie a tutti.